Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. La coppia di neosposi scomparsa ha mentito. Incastrati dalle telecamere, emergono nuovi sviluppi su un caso che ha lasciato tutti col fiato sospeso. La misteriosa sparizione improvvisa di questi giovani, senza alcun preavviso, ha fatto scattare domande e sospetti. Ma cosa si nasconde dietro questo gesto inatteso? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli svelati dalle recenti indagini. Dopo la loro partenza, la famiglia degli sposi non ha avvisato subito le autorità, sollevando dubbi e avviando un'inchiesta. La coppia è stata vista per l'ultima volta a Milano, prima di svanire nel nulla. Anche se si ipotizza che volessero far visita a dei parenti, il silenzio mantenuto dai familiari ha acceso ulteriori interrogativi. Di recente, i neosposi hanno dichiarato di stare bene, spiegando che volevano solo riposarsi dopo il viaggio, lasciando intendere che si trattasse di un allontanamento volontario. Nonostante la spiegazione, l'assenza improvvisa e senza preavviso ha attirato l'attenzione, tanto che i carabinieri di fratta maggiore hanno iniziato a raccogliere prove, inclusi i filmati di videosorveglianza. Le immagini mostrano la coppia in stazione, rilassata e tranquilla, suggerendo una partenza pianificata. Questo dettaglio ha portato gli inquirenti a valutare un'accusa di procurato allarme per i familiari, colpevoli di non aver comunicato il rientro della coppia. Le teorie sul caso si moltiplicano e il mistero si infittisce. Perché inscenare una scomparsa? Durante l'interrogatorio, i due hanno spiegato di voler trovare un po' di tranquillità dopo lo stress del matrimonio, ma è davvero tutto qui. Le indagini continuano e presto potrebbero emergere rivelazioni inaspettate che gettino una nuova luce su questa strana vicenda. Cosa pensate di questo caso? Come giudicate il comportamento della coppia e della loro famiglia? Fatecelo sapere nei commenti e ricordate di iscrivervi per restare aggiornati su tutte le notizie più intriganti.